Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi, stella segreta numero 4 di questa season 10. La vediamo direttamente nella schermata di caricamento sbloccata con la sfida. Il punto esatto, se ci spostiamo ragazzi in-game, è esattamente questo. I2, I3, J2, J3 ragazzi. Quindi a parte gli snappi che mi seguono e che non si sa il perché, il punto esatto è proprio qua. Quindi la stella segreta si troverà molto probabilmente qua. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando. Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani mattina in live e oggi, questa notte, probabilmente di là. Ciao! Ciao! Ciao!